Oggi sono abbastanza contento e soddisfatto perché, e ve lo consiglio veramente, ho determinato delle relazioni che esistono e che vi mostro qui e di cui parlo in uno dei miei video che ho fatto oggi, in cui dimostro proprio esattamente, pensate, la relazione che esiste tra la velocità della luce e il così importante numero trascendente che è pi greco. Io vi dimostro proprio in maniera precisa come pi greco sia risultante proprio a partire da quelli che sono gli stessi modelli evolutivi che consentono a noi di vedere la luce arrivare in quelle quantità, in quel modo, in quella espressione di fenomeno. Io vi ho fatto un calcolo veramente molto bello e qui non insisto, ma dico chiaramente a tutti i fisici e a tutti coloro che vogliono osservare altri aspetti della realtà rispetto a quelli che sono portati a conoscere, di vederlo e considerarlo questo video perché è molto importante e vi determina esattamente la bellezza di 14 numeri di pi greco determinati in quel numero proprio dai cicli che esistono in natura e esistono a tal punto poi in quel valore intero che io vi ho rappresentato nella luce come una serie di 1444,490,513100 carrozzoni di un treno che avanza nel tempo di un secondo e che trascina in ciascuno di questi vagoncini proprio il modello unitario del fenomeno elettromagnetico che diventa unitario quando proprio si accorpa sul valore di 207.542 metri e per una ragione assai semplice il fenomeno elettromagnetico rientra nel ciclo generale di 10 elevato a 10 considerato come valore assoluto di un'area composta da elettromagnetismo e allora il lato la lunghezza elettrica o magnetica è 10 elevato a 5 angstrom dentro un metro perché un metro è 10 elevato a 10 angstrom unità atomica l'unità atomica elettrica è 10 elevato a 5 angstrom che sono 10 elevato a meno 5 metri e di conseguenza poiché abbiamo lo stesso contenuto elettrico e magnetico che si presenta come 100.000 cioè 10 elevato a 5 100.000 unità e quando consideriamo anche l'unità sono 101.000 elettriche e magnetiche quindi sono 202.000 e poi sono la velocità 6 a 1 relativa a 7 dimensioni espresse dall'unità della massa che è 1000 quindi è 7.000 e poi c'è la candela nella intensità unitaria di 540 metri perché il ciclo a secondo che abbiamo qui non sono 10 elevato a 12 hertz ma sono metri a secondo e quindi abbiamo 540 metri ora 202.000 più 7.000 più 540 è uguale a 207.000 542 che è proprio il valore esatto che manca alla velocità della luce ai metri vincolati dalla velocità della luce per essere i 300 milioni di una dimensione pura legata alle tre dimensioni dello spazio che non sono tre ma sono 300 milioni perché il metro è 300 milionesimo e quindi quel 300 milioni di metri 300 milionesimi significa 1 e di conseguenza noi abbiamo che questa unità quando assume questo numero così grande in metri così piccoli ne veicola per il quantitativo non di 300 milioni che sarebbe il quantitativo giusto ma meno perché una parte si pone come vettore ed è il modello unitario quel modello unitario di 207.542 e poi sono necessari 1.444 errotti vagoncini ognuno dei quali trascina questo valore unitario per arrivare a essere un numero uguale a 299 milioni pari in metri a questo punto avremo 299 milioni 792 milioni 792 milioni come metri e il valore inverso come quello che mettendoci in relazione alla luce dimensione un metro perché un metro da cosa è dato da un 299 milioni della luce ecco vedete si arriva a calcoli così precisi così circostanziati e la bellezza è che essi portino proprio al valore tempo decimale che esiste in più in pi greco quando aggiunge questo tempo alle tre dimensioni dello spazio e diventa 3,14 15 96 e così via vi raccomando se avete amore per la scienza di considerare quello che io vi ho scritto oggi perché è di fondamentale importanza e di grande bellezza non solo ma anche di grande semplicità fatelo ascoltate il mio consiglio mettete un po da parte una volta e di grande semplicità di considerare il mio consiglio mettete un po' di grande semplicità e 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 di grande semplicità apritevi a uno spazio nuovo che esiste nella fisica quantistica nei modi con i quali la tratta la fisica amodea grazie 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 grazie